ciao ciao a tutti siamo qui nella sede della casa editrice midgard per un altro dei nostri brevi video di presentazione questo sarà l'ultimo video prima della pausa estiva di agosto vi parlerò quest'oggi di due volumi che sono usciti da poco tempo nelle nostre collane primo volume di cui vi parlo è questo qua fare teatro di michele coccia il primo volume uscito nella nostra collana teatro ultimamente è davvero un bel volume con varie opere di teatro del nostro michele coccia e fra l'altro è anche un libro illustrato con delle illustrazioni dell'autore ve ne faccio vedere alcune eccole qua sono sono delle belle illustrazioni che accompagnano queste queste numerose opere di teatro e michele è nato nel 1935 a gargano barano è lavorato in architettura presso l'università degli studi di sapienza di roma ha svolto per anni l'attività di libero professionista con incarichi di stato appassionato di pittura scultura e disegno e autore di racconti e di testi teatrali e docente di scuola media in pensione ha realizzato con successo cortometraggi e spettacoli teatrali presso diversi istituti della capitale si segnalano le nuove opere fra cui racconti mitologici e sceneggiati farze romanesche vite parallele un cantore solitario che fra l'altro ha pubblicato con midgard ha collaborato saltorialmente alla rivista terza pagina e trimestrali di editoria e cultura è davvero un bel volume che va a impreziosire la nostra collana di teatro vi leggo fra l'altro anzi vi faccio vedere anche un'altra immagine è molto bella sono delle illustrazioni veramente belle che preziosiscono il volume come ho già detto e vi leggo i titoli delle numerose opere di teatro che ci sono in questo libro è una lunga storia raccontata in breve nelle catacombe un viaggio in etruria tra leggenda e realtà nella roma imperiale alle crociate nella roma papalina al mercato una lezione di storia lo scrivano un maestro severo i cavernicoli una corte particolare la scuola d'egitto una guerra durata dieci anni sulle rive delle ufrate al castello del conte ubertone messer archibaldo colon il salotto della contessa matilde morte di napoleone e maestro luigi boccherini davvero un bel libro che vi consiglio nella nostra collana di teatro e lo potete ordinare sia sul sito della casa editrice midgard che anche negli altri bookstore con cui siamo distribuiti ovvero con amazon con internet bookshop con mondo doristore e dalle feltrinelli dal circuito feltrinelli in tutto il territorio nazionale e da qualsiasi libreria indipendente che si prende la cura di di ordinarlo presso la casa editrice e il secondo libro invece di cui voglio parlare è questo qua vaga stella di elonora nuccerelli è una bella raccolta di poesia che la nostra elonora ha pubblicato con noi ultimamente elonora nuccerelli è pedagogista vive a perugia dove lavora come docente di storia filosofia scienze umane nella scuola secondaria di secondo grado tra le sue tra le sue pubblicazioni ricordiamo i saggi lo squisito dolore e lo stridente piacere e che ha pubblicato con noi con midgard la raccolta di fiabe che è diventata un podcast in primis insieme sempre sempre pubblicata con noi poi ha pubblicato altre silloge poetiche come frangi frutti di stelle a volte si tinge d'argento incantevole altrove la primavera siderale che tu dammi mille poesie per ora cento con midgard ha curato anche la raccolta di questi e vorrei donarti un amore e è davvero una bella raccolta poetica vi leggo dal sempre dalla quarta di copertina una costellazione diversi erranti istabili indeterminati che sembrano mossi dall'urgenza di indagare la densità della vita l'intensità delle emozioni e la complessità delle relazioni liriche di lenora nuccerelli si spostano dal luogo al luogo senza una destinazione prestabilita si poggiano sulle labbra di donne leggendarie in bilico tramito e realtà e sembrano da esse sussurrati a fior di labbra non c'è frattura tramito se pensiero razionale se entrambi servono a cercare una verità che non abbia la pretesa di essere assoluta ma che possa fornire risposte anche se non neosaustive ai pensieri che affollano la mente da un lato le turbolenze irrazionali e sconveniente della giovinezza dall'altro le consapevolezze avvedute dell'età adulta si incontrano in un gioco precario senza regole dove mente corpo ed emozioni si rincorrono nel loro perpetua orbitare le figure le figure mitiche che troviamo dentro la raccolta sono atena poi c'è penelope c'è era nausicaa circe afrodite calipso elena andromaca rea ecuba e teti è davvero una bella raccolta vaga stella di elonora nucciarelli nella nostra collana di poesia e chiaramente anche questo libro si può ordinare come l'altro sia sul sito della casa editrice midgard che sugli altri book store ovvero su amazon su internet bookshop e su su allora mondadori store e da tutte le feltrinelli del territorio nazionale e dalle librerie indipendenti io vi rischio io vi ringrazio molto per l'ascolto e ci sentiamo dopo la pausa estiva ciao e buona estate a tutti quanti